Tra il rapper e l'imprenditrice digitale, in teoria, non ci dovrebbero più essere problemi di sorta. C'è un, però, che sta succedendo in casa Ferragnez. Fino a qualche giorno fa, marito e moglie si erano mostrati più uniti che mai sui social, dopo la bufera che li aveva travolti post-festival di Sanremo 2023. Si era detto che i due stessero vivendo una crisi impossibile da risolvere. Con Chiara Ferragni sul piede di guerra pronta a chiedere il divorzio dal marito. Ad inserirsi a gamba tesa riguardo ai gossip post Sanremoesi, ci si era messo anche Fabrizio Corona, certo che la separazione fosse ormai imminente. Eppure, alla luce degli ultimi problemi di salute di Fedez, i due si erano mostrati in un tenero post social mano nella mano, pronti ad affrontare insieme qualunque possibile difficoltà. Tutto risolto. Dunque, il sereno è tornato dopo la, presunta, tempesta. Più o meno, per lo meno sulla carta, e stando a quello che i due hanno voluto condividere sui loro social. Il magazine oggi, tuttavia, ha voluto cercare di mettere insieme i pezzi del puzzle Ferragnez, evidenziando una serie di elementi che in effetti potrebbero fare emergere qualche sospetto. Il giornale ha analizzato la situazione, evidenziando che i due non si sono più fatti vedere insieme, così spesso, sui social. Al contrario, Chiara Ferragni, è da ormai diversi giorni lontana da casa, impegnata in una serie di importanti progetti lavorativi. Prima l'influencer è partita alla volta di Marrakesh, dove ha partecipato ad un viaggio di lavoro per un brand di cui è testimonial. Poi, dopo i rispettivi compleanni ravvicinati dei figli Leone e Vittoria, la Ferragni è partita alla volta del Sudafrica, dove ha passato qualche giorno di relax in compagnia di alcuni amici, tra un safari e l'altro. Nel frattempo, Fedez è rimasto a casa a fare il mammo, pardon, il padre, occupandosi dei bambini e creando insieme a loro i soliti divertenti contenuti social.